ciao a tutti amici benvenuti su questo mio nuovo video siamo qui oggi questo nuovo episodio dentro avevano 4 il nostro montana in clave e devo vivere andato avanti ma in niente nel senso che ho semplicemente fatto un po di riforme dell'esercito come la pasta di visione raggiunto giusto un po di carriamati in più qualche support in più non ho fatto letteralmente niente livello di focus a livello di storia non è successo letteralmente niente siamo solo aspettando il momento propizio per attaccare e credo che questo si avrebbe giusto perché nel frattempo cosa ho fatto potete ben vedere sto costruendo una velocità incredibile e ho un sacco di roba da fa ma in grosso è stato fatto magari per qua una fila di acqua e quale sono fatto ma anche per qua una fila di forti quando ho fatti tutti tutti il bunker puro fatto almeno di livello 1 ultimato confundato e quindi certa che hanno no ci attaccheranno mai sapete che che hanno paura a no cazzo un cazzo l'americanata ha decifrato il nostro cyber no come faremo adesso è tutto finito è una fine ma vaffanculo a robbico io dicio il nucleon jet fighter che è già pensate che mi metti cyber non è gt che sei stronti moonnates dicevo io come capire una cosa quanti sono morti in tutto ciò già ma se continuo così muoiono in tempo cava ciao poco dg ah siete ben di forti vabbè voi continuate ad attaccare continuate ad attaccare continuate 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 così ma vediamo c'è poi lucharmo a farlo fermi un attimo la capitana nemica è andata non lo so tutte major no che panna pazzi pazzi most things ha dichiarato guerra a una rnc ma siete impazziti no incredibile no oh madonna rnc ha preso il controllo di non steams oh mio dio aspetta che rimane a cosa ok vai qua subito 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 facca un attimo questo strunzo si che fermo facca un attimo Un bel'acqua! Un bel'acqua! Ma voi? Ma queste forse? Dammene tutte venditeva. Stiamo facendo così, io ho fatto un bordello, eh? No. Ok, Damian Carter avrà il controllo di queste divisioni e ti do subito un Ogall Eden così non mi rompi di coglioni. E uno sniper così. Ehi. Sto prendendo di coglioni. Ma scusa vai qua, no? C'è, non capisco che devi fare il cretino. Guarda quante divisioni gli abbiamo saccato. Guarda, io devo fare lo screech, devo ammirare questa promessa. La situazione per il momento è abbastanza normale. Voglio raggiungere almeno 4th pack. Ma una dame da togliere un po' di man forte qui. Abbiamo avanzato. Ah, almeno 4th pack è indispensabile. Perfetto. Abbiamo catturato da una spia nemica. Abbiamo perso 4th pack. Allora, se ne scassacca qua è fatta, eh? Eh no. Non ce n'abbiamo fatta. Allora, fermiamoci un attimo. Un esercito maggiore deve andare qui. Mentre vengo verde. Siccome abbiamo preso queste parti importanti, mi voglio fare così. 12, qua. 12, qua. Ok. Ah, da qua. Va bene. Ah, problema d'avanzare un attimo. Eh, gli armati rimangono a defenda. Tu rimani qui perché... Ok. Oh. Ah, gli altri due vanno qua. Dobbiamo mettere qui. In difesa. Attaccata è qua. Oh mamma mia. Oh mamma mia. Quanta gente è morta. Assurdo. Ok. Continuiamo. Fino a qua. Voi difendete, eh? Voi iniziate un attimo un leggero attacco. Ok. Sì. Tu rimani a difendere. Voi iniziate un attacco. Avanzata, avanzata. Perfetto. Ottimo. Ok. non attaccato. Proviamo a mandarne tutti in laggiù. Intanto sono stupidi. Sì, sì. Andate, andate. Andate, andate, andate. Andate tutti, andate tutti. Andate tutti. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Questo è solo Spaymaster. Perché no? Sì, sì. Sì, sì. E, altra gente è morta. Allora. Portiamo una Spec Ops e una Teoria a difendere questo teatro qua. E' bello. No, ragazzi. Qua. Madonna, ma... Ma come... Ma come si fa? Annaggia. Dai. Forza. Forza. Ora muoio, lusus. Qualcuno? Se li ha un po' lususus. Si ha un po' lususus. Il anaggia. E' una città. L'agente speciale Johnson è rimasto con 12 fottutissime divisioni. E stiamo tenendo a botta. 2 secondi dopo un po' voi uscite da questo esercito perché dovete essere uno nuovo che vi metto qua con backline qua con backline qua questo ne voglio uscite bene oh la capitana è presa guardate come cadono questi piccoli pezzi guardate come cadono piano buono buono guardate 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 che chiedo quella mio vino ci tutti si è dichiarato c'è tutto questo ma donna mia mamma da che bordello questa è la più grande sfida dopo quella di cesena per la nuca di fogna ne pubblica e la sua fazione sono riuscito ad avanzare qui e adesso voglio provare no voglio provare a fare così conclusione no niente conclusione nei miei tempi io odio la conclusione la capitana è caduta a seconda ok cover me ok madonna dove andando fino a dove andando me ne fotte proprio Agenti nemici tradiscono il loro valore per un insieme a noi ma non hanno capito che io di double agent non mi fido anche così come hai tradito la poeta di me e quindi mi trovo minimamente senso in queste scelte stupide hai preso una decisione io sono fatto così ragazzi anche le vittoria è arrivata allora montana montana tutti i claim saranno miei tutto ciò che non lo è no cioè fatemi capì claim vabbè quindi fino a qua è mio poi mi prendo tutta la navy e facciamo puppet allora dobbiamo fare puppet tutto andando in line republic americana e adesso facciamo i focus ma è senza due winter world mettiamo i nostri soldati fanno un bel cecchio qua cazzo fai no 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 watchman ok mettiamo questi qua va bene ragazzi il video finisce qua spero che il video vi sia piaciuto salviamo voglio salvare assolutamente nel caso vi sia piaciuto mettete un bel mi piace commentate noi ci vediamo su un prossimo video e in questo frangente io si devo sistema tutto e quindi ci vediamo al prossimo video ciao ragazzi